Ciao ragazzi, eccomi qui con un video che avevo in mente da fare da un bel po' ed è il video sulla mia palette personalizzata della Neve Cosmetics e so che magari adesso non vi interesserà più di tanto perché siete tutte super prese da questa dogrom comprita io ma ci tenevo comunque a farvela vedere anche appunto in vista del childaparty e magari avere qualche swatch e qualche opinione in più su degli ombretti poteva esservi utile allora mi sono segnata le descrizioni che fa Neve di questi ombretti insomma anche perché vorrei dirvi cosa ne penso io allora la palette è questa è una palette molto leggera, fa il click quando si chiude ma non la vedo chissà che resistente anche perché è semplicemente in plastica costa intorno se non sbaglio 7-7,50 euro e l'unica grande pecca di questa palette che viene accorgita da sole è che manca lo specchio infatti è stato anche un motivo che me l'ha fatto scartare da portarla uno dei motivi che me l'ha fatto scartare da portarla in vacanza il fatto che non ha messo uno specchio e comunque ci sono 10 childe e allora io l'ho composta piano piano piano, in due mesi l'ho finita e mi hanno ripromessa una volta completata di riposizionare le childe con un senso logico ma non l'ho più fatto perché un po' non mi va, un po' mi scoccio, un po' mi scordo e quindi sono un po' sconfusionata come sono messa obiettivamente ma ormai io mi sono anche abituata un po' così comunque prima di farvele vedere volevo dirvi, cioè volevo spiegarvi perché ci sono questi colori ho inserito innanzitutto i colori che io utilizzo di più volevo una palette completa e personalizzata che appunto potesse essere utile anche da portare in giro e per i trucchi veloci averla sempre a portata di mano e per questo oltre agli ombretti troviamo anche un illuminante, un blush e un bronzer infatti spero che un giorno neve, il signor neve, decida di fare anche gli ombretti eh sì gli ombretti, i fondotinta compatti in cialda perché sarebbe davvero una palette molto completa e funzionale perché praticamente in una palette avrei tutto 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 e quindi detto questo iniziamo dagli ombretti e iniziamo da questo qui qua in alto che si chiama Acquario sono fantastici i nomi delle palette Neve e Neve lo descrive come un turchese intenso satinato ah, come vedete io non penso sia proprio un turchese ma lo vedo più come un verde acqua forte e sì è satinato, infatti non ha glitter evidenti ma rimane comunque molto luminoso e molto bello e sono tutti quanti gli ombretti che ora vi faccio vedere sono molto molto pigmentati, un pochino polverosi ma si sfumano benissimo, sono sitosi boh io adoro proprio la texture di questi ombretti e questo appunto è il verde che mi piace davvero moltissimo il secondo colore è questo azzurrino che si chiama Ossigeno che infatti viene descritto come un azzurro pastello con sottotono freddo io lo definirevo un azzurro cielo perché è davvero molto chiaro e luminoso ha dei leggeri glitter all'interno che però non rimangono molto visibili cioè rimane comunque molto luminoso ma non con questi glitter visibili è davvero molto bello e comunque questi ombretti possono essere usati sia asciutti che da bagnati se non è stato io li uso quasi sempre da asciutti ma anche da bagnati hanno un'ottima resa e durano comunque tantissimo cioè dalla mattina alla sera rimangono lì perfetti intatti e questo è molto bello per dei trucchi veloci comunque da stendere su tutta la palpebra e dà una luminosità bellissima altro ombretto saltiamo questo qui perché è un illuminante altro ombretto è questo qui marrone che tra l'altro è uno di quelli che utilizzo di più e si vede anche dalla cialdina e si chiama croissant che viene definito come un marrone caldo perlato qui non ho assolutamente niente da ridire sulla descrizione di neve perché è assolutamente un bellissimo marrone caldo che si può utilizzare in 3000 modi io lo uso quasi sempre nella piega dell'occhio ma anche su tutto l'occhio ha un bellissimo effetto e si comunque diciamo un colore scuro ma essendo perlato dà quella luminosità che magari non molti marroni danno insomma ed è davvero molto 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 bello secondo me uno dei migliori marroni che ho e poi andiamo alla riga sotto abbiamo questo nero che si confonde con la scocca della palette che secondo me è un nero indispensabile in una palette che si chiama black sheep e viene descritto come un nero assoluto opaco assolutamente giusto è un nero intensissimo opaco e tra l'altro è il suo uso praticamente giornaliero è quello d'eyeliner sia bagnato che da sotto se lo prelevo con un pennellino angolato d'eyeliner rimane perfetto per tutto il giorno e non sembra nemmeno un ombretto per quanto appunto è intenso ma sembra davvero una riga fatta con un eyeliner in penna quindi è davvero molto molto bello andando accanto c'è uno dei miei colori preferiti che è questo rosa che io non so se rendo dalla fotocamera si chiama baby doll e viene descritto come un duo chrome rosa caldo con dei riflessi fucsia e appunto era per questo che vi chiedevo non so se renda ma come vedete è questo rosa bellissimo appunto duo chrome che a seconda della luce ha dei riflessi surfucsia violacei davvero molto molto belli è particolarissimo una volta steso su tutto l'occhio dà una luce fantastica ed è in assoluto uno dei miei colori preferiti è veramente bello tra l'altro forse è in tutta la palette è uno dei colori più particolari e difficili anche magari da trovare di altre marche poi abbiamo smoking che anche questo penso sia secondo me un colore che non può mancare in una palette che è un classico taupe viene descritto come un grigio tortura freddo appunto ed è perfetto questo è completamente opaco è perfetto per la piega dell'occhio e per trucchi veloci anche su tutto l'occhio specialmente con gli occhi chiari va comunque a fare un bel contrasto è perfetto da tamponare sopra il color tattoo della Maybelline che vi piace vedere anche nel video di Kimberting Creme magari ve lo lascio perché appunto è lo stesso colore andiamo se riesco a metterveli vicini vedete sono due colori praticamente identici sono entrambi opachi e quindi diciamo che dato che quello è in crema anche se è una durata pazzesca spesso lo vado a fissare con un ombretto in polvere questo è assolutamente perfetto chiusa questa parentesi e l'ultimo ombretto è questo viola che è davvero bellissimo allora vi dico che questo l'avevo preso un po' incerta perché da internet quando vado a cercare delle foto con gli swatch sono troppo diversi fra loro sia per luce sia per sottotanno della pelle sia perché gente magari ne prende poco gente ci mette il dito dentro per fare uno swatch e quindi non riuscivo a capire quanto fosse forte o troppo forte troppo viola non lo so non ero convinta da quando mi è arrivato insieme alla cialda marrone non so se si vede è fra quelle più utilizzate perché mi piace davvero tantissimo viene descritto come un viola melanzana scuro ehm... sì un viola melanzana scuro con dei bellissimi riflessi ha dei mini glitter all'interno e salinato rimane davvero molto molto luminoso e come vedete ha un colore davvero bellissimo cioè mi piace davvero tanto 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 quindi questi erano gli ombretti poi vi dicevo all'interno ho inserito un illuminante che uso anche spessissimo come ombretto che è questo qui che sembra giallino che si chiama Plastic che viene definito come se non sbaglio un color crema sì un illuminante crema satinato sì è un color crema infatti all'interno appunto sembra giallino anche da lontano come vedete però non rimane giallo ovviamente come vedete ma è come se anche all'interno avesse una punta di dorato è un illuminante fantastico perché è molto discreto è molto modulabile ed ha un effetto molto molto naturale ed è perfetto per chi non ama diciamo quegli illuminanti un po' pacchiani con glitter parecchio visibili o comunque che si vede che hai una striscia di illuminante in viso invece questo è veramente molto discreto e fa un effetto davvero molto molto bello infatti anche questa è una salda utilizzatissima anche perché la utilizzo praticamente tutti tutti i giorni poi abbiamo un blush che è questo qui che si abbina perfettamente alla palette che si chiama Jam ci ho messo un dito dentro che si chiama Jam è definito come un fucsia lampone satinato è proprio un fucsia pieno bellissimo davvero molto molto bello è satinato ma non glitterato anche questo dà una bellissima luce al viso come potete vedere è abbastanza carico come colore però con il pennello una volta sfumato diventa un blush davvero portabilissimo anche da tutti i giorni ed è modulabile per effetti diciamo un po' più strong infine abbiamo un bronzer che dico la verità prima dell'arrivo di quello di Essence era i miei preferiti quello di Essence adesso l'ho un po' sorpassato però è davvero molto bello si chiama California viene definito come un rosa biscotto e rosa biscotto io non lo definisco il rosa biscotto secondo me è un beige è un color si un beige abbastanza scuretto che però come vedete non rimane davvero molto scuro e specialmente una volta sfumato è davvero quasi impercettibile e dà davvero un effetto naturalissimo cioè non è evidente che c'è la terra sul viso rispetto a quella di Essence è meno carica insomma anche a livello di colore più chiara ed è molto bella perché appunto è opaca ed è anche volendo abbastanza adatta al contouring perché come vedete comunque non è aranciata ma è un bel colore e niente ragazzi questa era la mia palette le cialde vengono tutte 4,20 euro l'una certo a livello di prezzo non è conveniente farsi la palette ma è molto più conveniente comprare quelle fatte di neve però secondo me è molto carina l'idea di avere una palette personalizzata e sono ombretti che vi stra consiglio sia per pigmentazione per durata per particolarità appunto di alcuni colori come vi ho fatto vedere e niente fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi ombretti e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao